Musica Tragico contro Esodo, due morti nel Salernitano, l'incidente tra Capaccio e Pestum nei pressi di uno svincolo. Una moto si è scontrata con un'auto. Le due vittime, un uomo di 48 anni e una donna di Atripalda, in provincia di Avellino. Grave un ferito di Vallo della Lucania. La follia del badante killer, focus su tutti gli assistiti. Ha confessato quattro delitti, ma potrebbero essere di più le vittime. Gli inquirenti cercano riscontri su oltre 30 anziani, di cui Mario Eutizia si è occupato negli ultimi dieci anni. Da casore a solidarietà del sindaco alla famiglia di una vittima. Extra comunitario ucciso, tragica litte a Napoli. Il delitto accoltellato in Mico Colonne, all'Avinaio. Ci sarebbe stata una litte per motivi ancora da chiarire. La vittima, un extra comunitario, indiziato dell'omicidio un 61enne tunisino, che è stato fermato. Si cercano testimoni. Pacchi alimentari per i voti, terremoto alla Caritas. Il vescovo Aiello cambia i vertici della Caritas di Avellino, nominando tre diaconi. E parla di accuse ingenerose in consiglio comunale. Ma Gengaro insiste. Queste nomine confermano i sospetti. Bisogna fare chiarezza fino in fondo. Benevento, top in centro. Il comune, colpa del caldo. Infuria la polemica per la presenza dei ratti nel centro storico della città. Intanto dal comune arrivano rassicurazioni sul lavoro di prevenzione svolto. Ma i cittadini e i commercianti insistono. Serve più decoro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Tg di Otto Channel TV. Abbiamo appena ascoltato i titoli principali di questa sera. Ma apriamo con la cronaca ancora sangue sulle strade campane. Nel weekend, caratterizzato dal controesodo, un 48enne di Atripalde ed una donna hanno perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Capaccio. Il servizio di Filippo Notari. Ancora strade di sangue nel Salernitano. A poche ore dal tragico impatto che è costato la vita ad una bimba di sette anni. Un nuovo incidente ha provocato due morti ed un ferito grave. È accaduto intorno alle 14.45 lungo la statale 18 nei pressi dello svincolo di Pestum. A perdere la vita sono state due persone. Cosimo Spagnuolo, 48enne, residente ad Atripalda e Arena Roxana, che viaggiavano in sella ad una moto. Ferito gravemente un 49enne di Vallo della Lucania, trasportato in elisoccorso a Ruggi. L'uomo era alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con la moto. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche altre due vetture. Nonostante i soccorsi, per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare. Il corpo della donna, a causa del violento impatto, è stato sbalzato all'esterno della carreggiata ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli. La statale 18 è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Traffico bloccato e disagi in un weekend già caratterizzato dal controesodo e dagli spostamenti in costante aumento in direzione nord sulle principali arterie. Il traffico regolare, finora stiamo rientrando verso il Veneto, verso Padova e per adesso tutto bene. Noi Stato in Potenza, andare all'Olanda. Siamo partiti da Botricello, dobbiamo arrivare a Torino. Traffico, ma comunque scorrevole. Un po' di traffico giù, per adesso vediamo il resto verso Caserta. Ha confessato quattro delitti, ma potrebbero essere molte di più le vittime del badante killer. Dopo la confessione shock, gli inquirenti cercano riscontri su oltre 30 anziani. Rossella Strianese. Un serial killer che agiva convinto di compiere una missione, liberare le sue vittime, anziani malati di tumore, dalla sofferenza. Mario Eutizia, il badante 48enne di Napoli, che si è presentato in questura a Caserta autodenunciandosi per la morte di quattro persone, ha cominciato ad uccidere almeno dieci anni fa, epoca a cui risalirebbero le prime due vittime di Latina, ancora senza nome. Li ha uccisi con un cocktail di farmaci antitumorali e potenti sedativi come il talofen e il trittico. Sulla dichiarazione di Eutizia si cercano riscontri. L'obiettivo è capire se tra i circa 30 anziani assistiti negli ultimi dieci anni anche altri possano essere stati uccisi. Nel frattempo il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha dichiarato la solidarietà di tutta la comunità alla famiglia di Luigi Di Marzo, l'88enne morto nel 2023. L'altra vittima è Gerardo Chintemi, 96enne di Vibonati, morto nel marzo scorso. Mario Eutizia, in attesa dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Santa Maria Capoavetere, ha dichiarato di averlo fatto per pietà. Ma la sua confessione, secondo lo psichiatra Adolfo Ferraro, potrebbe non essere semplicemente il segnale di un pentimento. Io credo che ci siano due aspetti, un primo è quello impattico, temporaneamente mi rendo conto di questa azione che sto facendo e quindi come tale mi sento una forma di colpevolezza. Il secondo aspetto per cui secondo me si è denunciato è che questo tipo di personalità hanno una modalità narcisistica molto forte. credo che sia appunto la volontà di far conoscere la sua azione, di farlo sapere, quindi l'autodenunciarsi, sia quindi una valenza etica e secondo me anche una modesta ma consistente ma significativa anche ai fini di quello che sarà il giudizio successivo di questa persona, ecco una valenza sicuramente narcisistica. Un uomo trovato morto per strada a Napoli nella zona di Piazza Mercato sul corpo diverse coltellate. Un 61enne tunisino è stato fermato per omicidio. Vediamo il servizio. Lo hanno trovato in strada, riverso sull'asfalto, con diverse ferite d'arma da taglio. È mistero sulla morte di un uomo straniero non ancora identificato che nella tarda serata di ieri è stato rinvenuto, privo di vita, in Vico Colonne a Lavinaio, a Napoli, nella zona di Piazza Mercato. All'arrivo dei soccorritori non c'era già più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per le indagini del caso sono arrivati i carabinieri della Compagnia Stella che a stretto giro hanno fermato un uomo di 61 anni, tunisino, sospettato del delitto. I militari stanno ora lavorando per risalire all'identità della vittima e comprendere la dinamica dell'accaduto al momento non ancora chiara. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia mentre intanto gli investigatori proseguono con gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. Le numerose ferite sul corpo della vittima potrebbero significare che ci sia stata una colluttazione con il suo aggressore, forse una discussione degenerata in un tragico epilogo. Sarà ora l'autopsia a stabilire se l'uomo sia morto subito dopo le coltellate o se il suo omicida lo abbia lasciato a terra, ferito e agonizzante, prima del decesso. Ed ora nel Sannio in particolare a Guardia San Framondi dove si prepara il clou dei riti settennali penitenziari domani ultimo giorno con la processione generale durante la quale dal santuario dell'Assunta di Corsa usciranno i battenti al seguito della Madonna. attese oltre 50.000 persone per il rito di penitenza e devozione che per tutta la settimana ha visto alternarsi le processioni e le sfilate dei vari rioni di Guardia San Framondi. Domani dunque ultimo atto di devozione con i penitenti e battenti che chiuderanno la manifestazione probabilmente unica al mondo che risale comunque ad oltre quattro secoli fa. Si indaga sullo spaventoso incendio in un'azienda alimentare di Pozzuoli. Il prefetto ha riunito il coordinamento dei soccorsi mentre l'ARPAC ha avviato il monitoraggio dell'aria. Rossella Strianise Fiamme in un'azienda alimentare a Pozzuoli che si trova lungo la strada provinciale per pianura. Si tratta di una ditta di distribuzione di materiale situata nei pressi del centro commerciale Le Campane. I danni sono ingenti, almeno una ventina i mezzi refrigerati distrutti. A fuoco anche un capannone. Sul posto ben quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di mettere in sicurezza la zona. L'incendio si è esteso ai vicini binari ferroviari al punto che si è reso necessario sospendere la linea Pozzuoli-Villa Literno. Sulle cause dell'incendio indagano i carabinieri di Pozzuoli. Non si esclude la matrice dolosa. Visionate alcune telecamere installate in zona, il titolare dell'azienda originario di Napoli è stato ascoltato dagli inquirenti a cui ha detto di non aver ricevuto mai minacce né richieste estorsive nei giorni scorsi. Tra le ipotesi comunque non si esclude la pista del racket in una zona che da sempre fa gola ai clan di Pozzuoli e Quarto. L'incendio arriva dieci giorni dopo la bomba fatta esplodere in una pizzeria di Monteruscello. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha riunito in prefettura il centro coordinamento soccorsi. Il comune di Pozzuoli ha chiuso provvisoriamente il vicino centro commerciale e le altre attività industriali. L'ARPAC ha avviato le valutazioni ambientali. Nei pressi del luogo dell'incendio è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine e furani. I risultati degli accertamenti in corso saranno diffusi non appena disponibili. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica e risalire i responsabili delle due sparatorie avvenute nella notte a Salerno. Duro attacco intanto della politica, emergenza, criminalità in città Sarabutte. Almeno dieci colpi di pistola esplosi da un'auto di grossa cilindrata all'alba tra le 3 e le 5 all'altezza delle abitazioni. Forse tutto è partito da un litigio con un uomo che è tornato più volte in via Raffaele Mauri nel quartiere di Mariconda, zona orientale di Salerno, poco distante, a passe in altri spari. Centrato dai proiettili, lo stabile nel quale risiede un pregiudicato e i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine. avrebbero sentito un uomo urlare, sono al lavoro per chiarire dinamica movente e risalire ai responsabili di quanto accaduto ai carabinieri, i rilievi anche con il supporto della scientifica, massimo riservo sulle indagini. Non si esclude che i due casi siano collegati o che si tratti di vendette o intimidazioni nel mondo criminale dello spaccio di droga, preoccupazione in città. Troppo la linguenza aumenta, là è stato sempre un quartiere un pochino particolare. C'è paura, c'è paura. Bisogna stare un po' più attenti. Mancano le forze dell'ordine evidentemente. C'è poca vigilanza, poca polizia. Duro attacco della politica all'amministrazione, una città abbandonata. Salerno sta dando una pessima immagine di sé. La microcriminalità che dà fastidio, crea danni, crea problemi, crea una situazione di incertezza e quindi anche di difficoltà e lo sviluppo diciamo economico della città. Una vera emergenza e oggi c'è una situazione di degrado a livello della città capoluogo, che è il simbolo della provincia, è una città rilevante a livello della regione e credo che abbia bisogno di una guida e di un'amministrazione diversa. Se non c'è un'amministrazione forte, autorevole, in grado di farsi sentire, i risultati non sono necessariamente questi. Ed ora in Irpinia con la bufera che ha travolto la Caritas di Avellino dopo la denuncia di pacchi alimentari utilizzati in campagna elettorale. Intanto il Vescovo ha nominato i nuovi vertici, ma dalla politica non si placano le polemiche. Il servizio. Non ha perso tempo Monsignor Arturo Aiello dopo la bufera che ha travolto la Caritas di Avellino nella vicenda relativa al presunto utilizzo di pacchi alimentari per ottenere voti da parte di esponenti dell'amministrazione comunale. Il Vescovo parla di ingenerose accuse mosse alla Caritas di Ocesana in sede di Consiglio Comunale in seguito alle quali si sono creati malumori e tensioni tra i responsabili che hanno portato alle dimissioni del direttore. Il Vescovo, apprezzando e sostenendo in pieno l'operato del direttore Don Antonio Paradiso, gli ha chiesto di ritirare le dimissioni ma senza risultati e ha affidato l'incarico a tre diaconi permanenti della diocesi. Il direttore è Antonio Dorta, i vice direttori Costantino Del Gaudio e Valentino Santucci chiedendo di lavorare per la comunione senza esporsi ad esternazioni commenti e conferenze stampa. Una rivoluzione che conferma i miei sospetti. Il commento di Antonio Gengaro. L'utilizzo persino dei pacchi alimentari per fini clientelari fatto da alcuni esponenti della maggioranza di Naggi è un fatto molto grave. Ovviamente quello che sta facendo la curia, quello che ha detto Don Vitaliano nelle settimane scorse, avvalora quanto da me denunciato. Persino queste pratiche sono servite durante la campagna elettorale per fare consensi. Io sono contento che il voto che ha riguardato la mia parte è stato soprattutto un voto di opinione. Nessuno ci ha chiesto niente, ma oltretutto noi non abbiamo promesso niente a nessuno. E a Benevento infuria invece la polemica per i topi nel centro storico della città. Dal comune intanto arrivano le rassicurazioni sull'operato fatto di comune accordo tra comune, ASL e Asia per la prevenzione. Ma i cittadini comunque chiedono più decoro il servizio. Dopo le polemiche e la rabbia di commercianti e cittadini a Benevento per la presenza di topi lunghi o il centralissimo Corso Garibaldi arrivano le rassicurazioni del comune. L'assessore all'ambiente Alessandro Rosa ha infatti rimarcato le azioni messe in campo da comune, Asia e ASL, ma ha anche spiegato come la presenza dei ratti non è sempre legata a condizioni di sporcizia o incuria, ma dovuta anche al caldo. Intanto i cittadini chiedono maggiore pulizia e lavaggio delle strade, in particolare dei vicoli, anche con disinfettanti per bonificare le tantissime deezioni dei cani. I marciapiedi vanno puliti con idropulitrici, con disinfettanti, i muri sono pieni di pipì di cani. Bisogna capire che sono cose che devono avere una cadenza almeno mensile, costante, di disinfezione e derattizzazione. Mi auguro che questo venga fatto, perché al momento viviamo e riceviamo gente in un posto sporco e incivile. Problema topi risolto invece nella zona del Duomo al ridosso dell'edificio in costruzione, abbandonato da anni. E' l'ASL che dovrebbe tenere sotto controllo con delle trappole o con una sanificazione più continua. Dal Mamozio, dalla struttura che abbiamo qui di fianco, non stanno uscendo. Quindi con un po' di prevenzione si riesce a risolvere il problema? Diciamo che io ho dovuto più volte in realtà mandare la segnalazione, però poi alla fine i vigili urbani sono intervenuti e hanno portato gli incaricati dell'ASL che hanno apposto questa trappola. Anno accademico alle porte, stanze sempre più care per gli studenti fuorisede a Napoli. Costi triplicati e case in affitto ormai destinate tutte al turismo. Vediamo il servizio di Sarabutte. Stanze sempre più care per gli studenti universitari fuorisede a Napoli. Non solo l'aumento della domanda triplicata quest'anno ma anche l'uso di tanti appartamenti per bed and breakfast o strutture turistiche hanno consolidato una tendenza al rialzo dei costi, una situazione difficile e in continua crescita. L'emergenza abitativa a Napoli si fa sempre più grave. E' recente il report di immobiliare.it che evidenzia un aumento del 16% del costo di una stanza singola e anche di un singolo posto in una stanza doppia nella nostra città dal 2023 al 2024. Purtroppo la domanda è molto più alta rispetto a quella che è l'offerta. Questo causa un'enorme difficoltà per gli studenti e per i lavoratori fuorisede che non riescono a trovare una casa. A fronte di un fabbisogno abitativo di circa 31.000 studenti e studentesse in cerca di casa quelli che sono gli alloggi purtroppo non sono disponibili per tutte queste persone. Necessari interventi urgenti per consentire a studenti e lavoratori di trovare un'abitazione a costi ragionevoli. Le soluzioni sono sicuramente quelle di un enorme investimento necessario sull'edilizia pubblica, sull'edilizia studentesca. Sicuramente la soluzione non è quella proposta dal ministro Salvini di rimpicciolire abbassando i tetti e stringendo le case per affittare un monolocale. Bene, finisce qui questa edizione serale del Tg di 8 Channel TV. Ora vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.